Sono Riccardo Divigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto portato a ricuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo è imperdibile, i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. Tony Boy si conferma uno dei progetti urban più interessanti dell'ultimo anno. Grazie alla sua prolificità e alla capacità di mantenere alta l'attenzione del pubblico, il rapper Padovano ha annunciato il suo quarto progetto in soli otto mesi, intitolato Nostalgia, con una data prevista per venerdì 23 febbraio. Con l'uscita di Umile a luglio, seguito dalla Deluxe Version ad ottobre e poi dall'EP Export a dicembre, Tony Boy ha dimostrato una grande dedizione alla sua arte, conquistando quasi ormai 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify in così poco tempo. La sua recente partecipazione al brano Moon di Ava insieme a Capo Plaza ha ulteriormente consolidato la sua credibilità nel panorama urban italiano. Nel nuovo album Nostalgia, Tony Boy presenta un unico featuring con Artie Five nel brano Fortuna.